A presto, a presto, a presto! Sì Venerdì 9 settembre inizia la festa patronale a Busano Ciao a tutti, siete tutti benvenuti, venite, quattro giorni di festa, dai! Quattro giorni intensi con un ricco programma, cosa possono trovare? Allora, prima cosa, una carne favolosa, perché per me è la numero uno, è la numero uno per tanti Poi, vabbè, questa sera abbiamo Radio Gran Paradiso, sabato sera abbiamo Radio Number One Domenica ci sarà la cover band di Giovanotti che ha spopolato quest'estate Allora abbiamo detto, perché no, facciamo un piccolo Giova Beach Party a Busano E poi lunedì torneranno quelli di Radio Gran Paradiso facendo latinoamericano e poi disco per finire in bellezza Quindi qua si mangia, si beve, si ascolta musica e si balla? Qua si mangia, si beve, si beve, si beve e si mangia molto bene Piatti tipici, fagioli con la cotica, abbiamo la trippa, da domani pesce fritto Cosa abbiamo? Le costine più buone del Canavese e anche penso del Piemonte E che altro dire? Abbiamo reparto cocktail, siamo tutti giovani, volenterosi, abbiamo voglia di fare festa Dopo due anni fermi, quest'anno abbiamo voglia di riscattarci e di fare una grande festa E non si è volto nel mese di aprile, ma tre giorni dopo il mio corpo è risorto Io che ero un tipo soppito, tranquillo e pulito come un uomo morto Pobre sepolcro col piede di porco, poi stavo una boccia festeggia il ritorno Che sangue riappasso dal lato più oscuro e stavolta mi sbaglia Guarda che avanza in maniera simica, guardate E non gli sarai, avanza in maniera simica E non gli sarai, avanza in maniera simica E non gli sarai, avanza in maniera simica E siamo E siamo E siamo così E siamo così Wow Wow